Per quanto riguarda invece Diez c'è un discorso a parte perché nella seconda partita poi si è svegliato a una certa, nella prima ha fatto vomita. Credo che questo 78 di equilibrio si senta troppo e lo rende un pochino troncheggiante, pure l'180 non si gira molto agilmente, diciamo non è un giocatore particolarmente agile. Non lo sentito neanche particolarmente veloce sinceramente, 94 di velocità però sarà la mia connessione di stasera, non lo so. Non mi è piaciuto.